Educare a differenziare e soprattutto abituare i giovani ad essere attenti e disciplinati nella sana gestione dei rifiuti. A Sala Consilina si è deciso di creare le condizioni affinché i giovani studenti siano costantemente a contatto con le regole che impongono la differenziazione dei rifiuti, rendendo quindi la pratica un'abitudine nella vita. L'amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, continua così a dimostrare sempre maggior interesse verso la tutela dell'ambiente e ancora più verso la sensibilizzazione dei cittadini sul tema del rispetto della natura e delle regole. In questo percorso si inserisce perfettamente la nuova iniziativa, nata da una proposta proveniente dall'Istituto di Istruzione Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina ed in particolare dalla docente Maria Cappelli, e prontamente accolta e messa in pratica dal consigliere delegato all'Ambiente ed Ecologia del Comune di Sala Consilina Nicola Colucci, che si è adoperato per fornire a tutti gli istituti superiori che fanno capo al Cicerone di Sala Consilina, ossia il liceo classico, l'ITIS-GAT, l'Istituto Agrario e l'Istituto Geometra dei Petrinis, i contenitori in cartone per la differenziazione dei rifiuti. La consegna è venuta nei giorni scorsi con la distribuzione delle apposite scatole in tutte le classi degli istituti, che da alcuni giorni quindi vedono i ragazzi impegnati a separare in qualsiasi momento la spazzatura prodotta. Tre contenitori che gli istituti del Cicerone si trovano in classe in questi giorni. Via il vecchio cestino raccogli tutto. Ora, nelle scuole a Sala Consilina, i rifiuti si separano. Realizzati in cartone pesante, tre contenitori indicano sul frontale il materiale da inserire al suo interno, distinti per colore. Nel contenitore con il colore giallo si inseriscono i rifiuti in plastica e alluminio, che fanno parte del multimateriale. Il blu contiene carta e cartone e nel contenitore in grigio si conferisce rifiuto indifferenziato. L'amministrazione comunale salese punta a portare l'iniziativa anche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per una sensibilizzazione verso il rispetto dell'ambiente e verso la differenziazione dei rifiuti che parta dai più piccoli. Grazie.